Allora, allora, per favore, per favore, per favore, se cominciamo così, rimaniamo qui a torino, eh? Per favore, datemi i telefonini, i telefonini a me, portami. Ma noi non diamo i telefonini a nessuno. Ah no? Invece adesso, i telefoni li mettete tutti qui dentro. Ma dai papà, non esagerare. Anzi, dai l'esempio tu, cominciati, forza, e dopo anche i panini, mangiamo dopo tutti insieme. Forza, telefonini qui, qua. Oh. Dai. Ah, ci vuole pozzo. Andiamo, forza. Ma stiamo tranquilli? Presto. Tranquilli, tranquilli. Vai recupero, vai recupero. Tutto bene, eh? Ci sono fatti niente. Non stiamo tranquilli affatto. E no. Voi, bambini, mi chiamo Mario e vorrei spiegarvi alcune facili regole da rispettare. I bambini sul mio treno non possono parlare con voce stridu, non possono toccare poltroni con mani appiccicose, correre e sudare senza alcun motivo, cantare stupide canzoncina di petizione. Non possono usare pastelli, disegnare, sporcare, picchiarsi a mani nude, non possono rompere le scatole dei passeggeri per sapere dove si trovano, quanto tempo manca all'arrivo e se possono fare la pipì. In tal caso o la fate, basta o la trattenete senza fiatare. Avrei finito. Ci sono domande? Mi scusi, ma allora i bambini non sono graditi su questo treno? I bambini sono la gioia della vita, ma non sul mio treno. I bambini sono la gioia della vita, ma allora i bambini sono la gioia della vita, ma allora i bambini sono la gioia della vita.